Ciao, sono Mark Strucke, da ragazzo ho indossato la maglia rossonare San Giovanni, ho fatto per diversi anni l'istruttore nel settore giovanile. A San Giovanni ho tante amicizie e in questo momento di difficoltà mi sento di fare un appello a tutti, specialmente a quelli che hanno a cuore le sorti di questa storica società, di dare un piccolo e prezioso contributo affinché tanti ragazzi possano continuare a giocare a calcio, a divertirsi, a fare sport in un ambiente sano. Grazie. Grazie.